Stanno continuando dopo la chiusura dei tre alberghi altri controlli. Qual è la situazione? Le verifiche ci sono e ci siamo attivati anche noi. E' pur vero che ci sono stati degli interventi e degli impegni negli anni scorsi sia dalla parte pubblica che dalla parte privata per poter risolvere questo problema. Ma il problema grosso sta in capo alla Regione Campania. Perché non è possibile che la Regione Campania, 32 milioni per il depuratore, Serrara Fontana, Forio e dal 2005 non è stata fatta ancora la gara d'appalto. Io appena sono stato eletto e sensibilizzato il Consiglio Comunale mi sono recato alla Regione. La risposta della Regione è come mai dal 2005 ci sono 32 milioni per Serrara e Forio e non c'è stata nessuna attivazione da parte vostra. La risposta è stata, dice guardi, dove è stato ubicato? L'ultima volta è impossibile realizzarlo. Anche se qualche amministratore che mi ha preceduto in un'intervista di poco tempo fa ha detto che lo spostamento dell'ubicazione avrebbe allungato i tempi perché ci sono tutti i pareri. Non c'è nessun parere se non la delibera di Consiglio Comunale. Al che io ho fatto venire sul posto i funzionari della Regione Campania per scegliere insieme l'area più idonea a poter ubicare il depuratore con tempi di realizzazione più ristretti rispetto all'area che era stata scelta prima. Abbiamo scelto l'area, dopo tre giorni siamo andati in Consiglio Comunale, abbiamo portato gli atti alla Regione Dunque Campania, stiamo spingendo perché si appalti, perché la stazione appaltante purtroppo è la Regione Dunque Campania, perché si appalti l'opera. Entro 60 giorni dovrebbero venire a fare queste prove di carotaggio. Ma nel frattempo fino a che non verranno realizzati i depuratori che cosa succede? Fino a quando non verranno realizzati i depuratori le aziende dovranno attrezzarsi per far uscire acqua secondo le normative di legge. Anche se dobbiamo dire che quest'anno il mare di Forio, come fortunatamente, il mare di tutta l'isola di Ischia è stato pulito e non abbiamo avuto reclami. Agli albergatori cosa dice? Agli albergatori dico che noi come amministrazione comunale siamo pronti a disposizione, cerchiamo in tempo rapido di dare tutte le autorizzazioni per poter adeguare gli impianti. Naturalmente dico a loro di fare ulteriori sacrifici perché si sa che la crisi c'è e la crisi è grossa. Nell'indotto alberghiero sull'isola di Ischia lavorano circa 20.000 persone in tutto l'indotto, il che la chiusura di attività di un alberghiere significherebbe appesantire ancora il grave problema della disoccupazione.